Ciao a tutti e bentornati su Nissa ASMR Anche oggi torno con un nuovo video Come promesso non vi ho potuto aspettare tantissimo E come negli ultimi mesi, ripeto, sono stata un po' impegnata Però adesso ricominciamo E volevo tornare questa volta con una lettura classica Non con il tracing delle riviste Con il nostro caro Jonas Jonesso La sassi del pre-triportiere Allora, prima di ricominciare Io vi ricordo che se vi piace le noti porle il tracing Vi piacciono un po' questi mood calmi Da lettura, da tè delle 5 Con un libro, con una rivista Ecco, io vi consiglio di iscrivervi al canale se vi va E di lasciare anche un like Se volete poi supportare me o il canale Potete cliccare sul link che lascio sempre in descrizione Per le donazioni Paypal e per l'Amazon Wishlist Io vi apprezzo già per aver cliccato su questo video E non c'è nessuna necessità di fare donazioni O di fare le regali al canale Ci mancherebbe Se però volete anche, diciamo, un piccolo pensierino Ma a me fa super piacere Perché mi dimostra che, insomma, vi piace Quello che sto facendo Allora, a questo punto direi Bando alle chiacchiere E cominciamo con questo video Anche questa volta, come la scorsa E come alcuni ultimi video Ho lasciato la luce naturale Perché non so se vi può piacere quella della ringlet Diciamo che in inverno non ho molta scelta In mattinata non riesco a registrare Spesso pomeriggio sera e in inverno Chiaramente già alle 4-5 buio Ma adesso che è estate Credo che un po' di luce naturale Sia molto rilassante anche per gli occhi Voi dimmi nei commenti cosa ne pensate Siamo al capitolo 15 Nelle scatole da scarpe nascoste nella stanza Dietro la reception C'erano quasi 600.000 corone Da spartire tra il pastore e i responsabili della reception Quei soldi rappresentavano i loro risparmi Oltre ad essi C'erano altri 100.000 che costituivano la ricompensa Per i lavori non ancora effettuati Purtroppo sarebbero stati costretti a restituirli Poiché non la faceva pensare Che Anders, l'assassino e Gesù Avessero cominciato a scocciarsi l'uno dell'altro Restituire 30.000 più 30.000 più 40.000 Tre viri malavidosi o presuntitali Era qualcosa che il responsabile della reception Avrebbe preferito non fare In parte perché questo significava 100.000 corone l'ordine meno in cassa In parte perché i clienti volevano dei risultati concreti In cambio dei soldi E non i soldi indietro senza gli interessi Oltretutto il carattere della maggior parte della clientela Non era dei più mansueti Che ci si potesse immaginare Tanto meno dei più sensibili o comprensivi C'era il rischio che il responsabile della reception Il postore sarebbe diventato un oggetto di azioni poco piacevoli Allora che avessero informato i clienti Che Anders, l'assassino aveva smesso di malmenare la gente Forse la cosa migliore sarebbe spedire i soldi per posta Insieme alla spiegazione puoi sparire Meditore responsabile Il responsabile della reception Non c'è nessuno che sa come ci chiamiamo Dietro di noi non lasceremo molte tracce Noi stessi faremo fatica a trovarci Se dovessimo cominciare a cercarci Il pastore registra in silenzio le parole del responsabile della reception Quest'ultimo capiva che lei avesse bisogno di un po' di tempo per pensare Si trattava di ridare un modo o un altro a tre preferini Il responsabile della reception continuò Si potrebbe anche prendere con l'interazione L'ipotesi di tenerci tutto il denaro E per andare qui tre su tutte le furie In effetti abbiamo della nostra parte Tutte le possibilità di rimanere invisibili all'urradar Io ho sempre ricevuto lo stipendio Nero e non ho risultato da nessuna parte per quanto ne sappia Neanche il tuo nome finirebbe in qualche registro Prima che tu ti trasformi da ospite d'albergo In imprenditrice e mia partner Come si chiama invece quello che da Camera 7 La Camera 7 Lo sanno anche i sassi Oh, si è aperto un po' la penna Devo chiuderla Ma io ho convertito Lo lasciamo qui Sarò proprio lo spazio per lo impicare Tra i clienti che Gesù ha imposto il suo veto Nei confronti della nostra attività E che i suoi ex colleghi si sono trasferiti Senza comunicare il cambio di indirizzo Portandosi oltretutto via i loro soldi Il pastore continuò a rimanere in silenzio Sto ragionando in modo sbagliato De chi sei responsabile della reception L'interpellata scosse gentilmente la testa No, non stai ragionando in modo sbagliato Secondo me stai ragionando benissimo Ma un po' troppo sulla difensiva E poiché stiamo valutando la possibilità Di ingannare quel tipo di persone Con cui normalmente non si scherza Con sia un cervello che funziona Perché non farli vesti tutti quanti Spillare loro tutto il denaro Che sono in grado di pagare 100.000 corone sono una bella cifra Ma converrai che, per esempio 2.000 anni sono ancora meglio E il pastore sfoderò un sorriso degno di Mona Lisa In direzione del responsabile della reception Che in modo risposto scoppiò a ridere Con espressione sconcertata Erano passati poco più di tutti In quanto a lei E si era avvicinata Mentre era seduto sulla panchina Allo scopo di carpirgli 20 corone Appellandosi una preghiera miseramente raperciata L'episodio aveva fatto sì Che diventassero amici Poi società affari Poi amici Alla fine come se non bastasse una coppia innamorata E adesso per aver mollato tutto quanto Era una bella sensazione Quella almeno lo era Ma per il resto Il nonno Il papà La mamma I milioni E i ladri 2 milioni erano 100 volte meglio 100.000 Ma quando era più grande il rischio da correre E lei che cosa aveva in mente di fare Insieme a lui con tutto quel denaro A fatto che i miei altri casi Avrebbero continuato ad amarsi Spinti per lo più dal desiderio E non tanto nel dolore e nella malattia Il responsabile della reception Da risciare pure la domanda Perché in quell'istante Anders l'assassino Orrivo canticchiantolo Col corridoio Che il signore sia con voi Esordi con una voce così dolce E belliflo Da irritare il responsabile della reception Con grande soddisfazione Quest'ultimo Di rompere il conto Che aveva preparato Quell'intento di vendicarsi Con oggi Sono passati due anni E 36 settimane Senza che il signor Anders L'abbia assaltato mai il conto Inizio responsabile della reception 295 corone a notte Farebbero in tutto 290.000 corone Ai vecchi tempi Che avessi mai avuto l'ardore Di sottoporli a quello Il conto da pagare per la camera Avrebbe rischiato Di prendersi un sacco di botte Ma adesso non era più così Magari amabile Responsabile della reception Dispose Anders L'assassino Lei non può servire Dio E mammona Allo stesso tempo E' possibile In questo caso Io comincio Da mammona Riplico il responsabile Della reception Poi vedremo Se c'è anche tempo Per altro Giusto Intervenne il pastore Non sarebbe meglio Se per cominciare Tu mi servissi Un tramezzino Il formaggio Continuando Anders Assassino Ricordami che devi Amare il prossimo Come tu stessi E io non ho ancora Avuto niente da mangiare O il corpo di Gesù Come diciamo Anche il pastore Prova con la profonda E irritazione Nei confronti Dell'ex pluromicida E forte Della sua conoscenza Della Bibbia Ripatte Beati gli affamati Luca 621 Ah Come intorno Responsabile Della reception In questo caso Non intendo Luminare l'interno Di beatitudine Del signore Del signor Anderson Non servirgli Al contramenzino E' il minimo Che io possa fare Per lui C'è qualcos'altro Per cui posso evitare Di assisterla Se no Le auguro Una bella giornata Adesso L'assassino Sughino Ma capì Che non avrebbe messo Nulla Sotto i denti Prima di sparire Della sua pittola Dal momento Che aveva fame Si affreddò A provocare Che il signore Controlli E sorviglia Tutte le nostre azioni E che quindi Il pastore Responsabile Della reception Dovevano riflettere Sulla loro posizione Finché erano in tempo Poi il pastore Responsabile Della reception Si trovarono Nuovamente soli Lei gli spiegò Quello che aveva in mente Invece di dichiarare Che colpo zoide Che si è appena Uscito E' diventato Religioso Difondiamo la notizia Dell'esatto contrario Che invece la sostiene È diventato più cattivo Che mai Che non ha più Al confine Per un certo lasso di tempo Accettiamo tutte le richieste Che ci arrivano Omicidi Rotole spaccate Occhi chiamati Qualsiasi cosa Basta che sia gustosa E poi ce la filiamo Intendi sparire Senza aver fatto cavare Neanche un occhio Nessuno Neanche fosse fatto di vetro Un po' perché Noi non facciamo Questo genere di cose Un po' perché Non abbiamo nessuno Che le possa fare per noi Il responsabile Della reception Si mise a fare conti Per quanto tempo Avrebbero potuto Accettare diversi incarichi Senza che venissero portati A termine Due Tre settimane Più Un auto In cui avrebbero Tutto come scusa Che Anders Assassino era malato E che si scusavano Del contrattempo Quattro settimane Tutto ecco Se giocavano ad attacco Avrebbero potuto Accaparrarsi Sei o sette omicidi Raddoppiare il numero Di sevizi Di un certo livello E anche raddoppiare Quello dei maltrattamenti Più tradizionali Tu parli di due milioni Disse responsabile Della reception Che si occupava anche Delle finanze Delle trattative Io direi piuttosto Una cifra vicina I dodici Da un lato Dieci Dottici milioni di corone Dall'altro I passi fondi Del subuglio di Stoccolma Da un altro lato Il responsabile Della reception Il postore sarebbe Scomparsi Senza lasciare traccia Nessuno sapeva Chi erano E come si chiamavano Da un altro lato Ancora I criminali Non smettevano mai Di cercare Beh allora Cosa ne dici Chiese il pastore Il responsabile Della reception Rimase in silenzio Per alcuni secondi Poi imitando Il sorriso Della Mona Lisa Del pastore Disse che l'unica Possibilità per loro Di sapere Chi sono avrebbero Dovuto fare Quello che erano Procedito di fare Era agire Quindi procediamo Domando al pastore Sì Procediamo In che dire Secondo Cosa Sto scherzando Allora Io direi Di fermarci qui Abbiamo finito Questo bel capitolo Insieme Molto particolare E Nulla Io vi ricordo Come sempre Se vi è piaciuto Questo video E questa tipologia Di iscrivervi Al canale E di lasciare Un bel like Se poi volete Supportare Anche La qualità Del canale O fare comunque Semplicemente Un regalino Cliccate i link In descrizione Per le donazioni Paypal Oppure per l'amazon Wishlist Io vi ringrazio Ancora Anche solo Per aver cliccato Su questo video E nulla Ci sentiamo In un prossimo video Ciao